e la cosa che lo distingueva dagli altri è che era molto ecletico poteva fare qualsiasi stile e farlo bene diciamo tutte le gare di semi velocità anche se poi si è spinto fino ai quattro misti, due delfino però insomma molto ecletico sapeva fare tutto e l'ha fatto per tantissimo tempo e questa è l'altra grande qualità cioè non si è mai perso ha continuato a migliorare ha continuato a battere i ragazzi più giovani che arrivavano ed è una cosa che non succede così spesso nel nuoto perché poi ci sono cicli ci sono i ragazzi giovani che arrivano che sono sempre diciamo più in forma di te fisicamente ti battono quindi è riuscito a fare qualcosa di incredibile io ci ho avuto a che fare varie volte vedendo la gara all'inizio ed era te lo giuro una macchina cioè incredibile io non mi ricordo volte dove l'ho visto quasi parlare con gli altri suoi compagni di squadra tanto era focalizzato sembrava veramente un animale pronto a gareggiare da un momento all'altro sempre molto concentrato che tali magari vi